...di spiritualismo, che pronto, pronto, sono qui. Eh, ho capito, ma mica posso fare tutto io? No, ma lei viene qua e porta una religione nuova e così, e dice che affogava. Ho capito, te allo sesto mattina che ora mi sono alzato? Eh. Allo sesto per un quarto. Eh, vabbè, ho capito, ma che è il problema nostro, la religione l'ha fondata lei, scusi. Per me trapprende la bambina, ha messo in macchina e l'ho portata a scuola. Hai capito? Mi dispiace, ma... Che poi la bambina ha vomitato l'altra volta, eh. La bambina ha vomitato, quella gli ha dato l'altra volta le olive ascolane con la nuova. La bambina ha vomitato. Guarda, è sua moglie. Eh, mia moglie, eh. Ho capito, ma questo... C'era traffico, abbiamo fatto, abbiamo fatto il tragetto a piedi, se è sentita male, ha vomitato al cavalcavia, ha preso in testa un vigilo urbano. Eh, tanto che c'è qua, c'è quello, quella andata al corso di chitarra, lo sai che ora è rientrata a casa? Alle cinque del mattino. Eh, ho capito. Con il rossetto tutto spostato sulla faccia, ma che è la chitarra suoni con la bocca? Lei c'è una grossa, figli. No, scusi, lei c'ha grossa.